e che la decisione di fare questo processo era stata presa agli alta nell'incontro tra Churchill, Stalin e Roosevelt. Cioè loro già, diciamo prima ancora che finisse la guerra, avevano deciso di portare sul banco degli imputati tutta la nomenclatura del Terzo Reich. E questo aveva un motivo, perché c'era il sospetto durante l'ultima fase della guerra che qualcuno, in particolare gli occidentali, siccome si intuiva che poi ci sarebbe stata la guerra fredda, si alleasse all'ultimo momento con i nazisti superstiti, quelli che erano disponibili al tradimento e attaccasse l'Unione Sovietica. Quindi quel patto è fondamentale nella storia, perché il fatto di dire, senti, guardate, prima la guerra deve finire, poi li dobbiamo processare tutti, tutti quelli che riusciremo a catturare e poi il resto faremo anche altri processi che poi non si fecero, ma furono importanti per questo. C'è un'altra cosa interessante. Churchill disse che la caduta di Mussolini ha evitato una Nuremberg anche per gli italiani, perché in realtà, no, cioè anche l'Italia era in qualche modo legata al destino della Germania nazista. Sì, l'uccisione di Mussolini. L'uccisione di Mussolini è vero fino a un certo punto, perché anche Hitler si era ucciso, eppure il processo si fece lo stesso, ma l'Italia, siccome dal 8 settembre del 43, una parte dell'Italia si era schierata con gli anglo-americani, si ritenne che era troppo complicato, si lasciò tutto un processo di depurazione, un po'... E poi non ci fu, in realtà. Ma certo, ma poi non ci fu e non ebbe una sua Nuremberga. Mentre invece una sua Nuremberga l'ebbe il Giappone, con il processo di Tokyo, anche quello complicato. Fammi dire una cosa sulle complicazioni. Allora, sono state commesse delle cose difficilmente interpretabili. L'architetto Albert Speer, che era un uomo di fiducia di Hitler, nominato addirittura ministro degli armamenti durante la guerra, fu condannato a soli vent'anni, perché aveva un suo prestigio. Lui era stato con Hitler nel bunker due giorni prima che si uccidesse. Era ministro degli armamenti, fu condannato a vent'anni per aver ridotto in schiavitù le persone che lavoravano a fare quelle armi che provocarono le catombe. Un altro personaggio, invece, Julius Streicher, che dirigeva una rivista che si chiama da Stürmer, una vista orribile, antisemita, che durò, eh, quello fu condannato a morte. Lui si difese dicendo, vabbè, ma io ho fatto solo delle vignette. Era un personaggio spregevole. Però, lo vedi, sulle cose qualcuno si interrogò nel dopoguerra. Dice, ma come? Uno che dirige una rivista, per quanto spregevole, a morte, e l'architetto di Hitler, che sta con lui nel momento della morte, che ha fatto il ministro degli armamenti durante la guerra a vent'anni, perché lui fece in tempo a uscire poi dal carcere nel 66 e a vivere altri 15 anni scrivendo le sue memorie, onorato. Questi piccoli dettagli, forse non tanto piccoli, furono giudicati un'ingiustizia. Un'altra cosa interessante è che praticamente nessuno, pochissimi, due o tre degli imputati, si dichiararono colpevoli, ma tutti quanti dissero, noi abbiamo eseguito degli ordini. No, c'era questo aspetto che non era un aspetto da poco. Che poi ritroveremo nel processo Eichmann. Certo. Ma quello era finto, perché è una cosa che tu puoi disobbedire agli ordini, non sei obbligato a eseguire degli ordini. Uno ti ascolta, però poi, siccome ci furono casi di disobbedienza agli ordini, e diceva, ma scusa, perché non hai fatto come quelli che hanno disobbedito agli ordini? Cioè, quella è una difesa forte per l'onore, ma debole dal punto di vista giudiziare. Che tutti eseguirono degli ordini, solo Hitler dava gli ordini. Secondo me quella difesa non stava in piedi. Non stava in piedi. La cosa interessante...